Fondazione Carriplo interviene da anni a sostegno dell'infanzia meno tutelata. Dal 2009 lo fa con un bando dedicato alla promozione dell'affido familiare, strumento teso a garantire a tutti i minori, anche quelli la cui famiglia d'origine attraversa un periodo difficile, la possibilità di crescere in un contesto familiare attento ai bisogni del minore. Attualmente nel nostro paese la pratica dell'affido familiare risulta poco diffusa e spesso prevalgono risposte emergenziali a svantaggio di percorsi più tutelanti per il minore. Fondazione Carriplo ha scelto con questo bando di sostenere interventi che promuovano l'affido familiare come pratica specifica, connessa all'attivazione di logiche di tipo preventivo e non emergenziali. Il bando intende sostenere interventi finalizzati a incrementare il numero di famiglie disponibili all'affido, sviluppando non solo efficaci strategie di promozione ma anche di accompagnamento ai percorsi di affido. Il bando intende anche promuovere progetti dove pubblico e privato lavorano insieme con l'obiettivo di integrare responsabilità istituzionali e competenze specifiche più tipicamente appannaggio del terzo settore, come ad esempio il convolgimento delle famiglie e il sostegno dei percorsi di affido familiare. Obiettivo finale dunque è quello di incrementare l'utilizzo dell'affido e diminuire così il divario tra il numero di minori ritenuti affidabili e i minori effettivamente affidati, garantendo loro la cura che la famiglia d'origine è temporaneamente impossibilitata a dare. È aperto a tutti gli enti del territorio, pubblici e privati non profit. L'importante è che chi presenta la domanda garantisca specifiche competenze sul tema dell'affido familiare e preveda interventi che promuovano buone pratiche sul tema dell'affido all'interno del quadro programmatorio territoriale. Tali condizioni sono più facilmente rappresentate da progetti che vedono la collaborazione di enti impegnati nella gestione dei servizi rivolti ai minori e in realtà con specifiche competenze nell'accompagnamento dei percorsi di affido familiare.